Salve a tutti, bentornati su Polvere e Fumetti e bentornati alla vostra forse rubrica preferita dove diventare ogni settimana più povero della precedente e ogni settimana sempre più sudato della precedente veramente non se ne può più, non se ne può più, non se ne può più, agosto è proprio il mese che io non sopporto nel modo più assoluto soprattutto per il caldo ma, 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 per fortuna ci sono nuovi fumetti, ci sono nuove cose di cui parlare, come sempre se ci fosse qualcuno di questi fumetti che vi interessasse particolarmente recuperare lo trovate qua sotto in descrizione per recuperarlo su Amazon, se passate per Pavia o siete di queste parti vi trovate alla Nerderia di Pavia, come sempre, gli indirizzi sono qua sotto, oppure se voleste recuperarlo ma non avete una fumetteria vicino e insieme a qualche cosa italiana vorreste anche comprarvi qualche fumetto americano vi trovate anche questi su hovistocose.it, la fumetteria online, presso cui io mi servo per recuperare tutti i fumetti americani di cui presto a breve tornerò a parlarvi con altre nuove succose, novità ma cominciamo con i fumetti usciti invece questa settimana, cominciamo come al solito in realtà con l'edicola per cui è uscito il nuovo Dylan Dog, il numero 431 Nulla è per sempre, con le bellissime copertine, come sempre, dei fratelli Cestaro numero scritto da Giancarlo Marzano con i disegni di Giovanni Freghieri nome abbastanza, come dire, storico per la serie di Dylan Dog già mi piace un sacco la copertina, mi piace veramente veramente molto lo stile di Freghieri, anche questo molto, non viene a dire, classico mi piace molto, anche questo gusto molto retro, anche nei design, nei soggetti insomma, mi piace veramente veramente molto insomma, anche questo non vedo l'ora di recuperarlo, di leggerlo sono indietro di un paio di numeri però, insomma, già, ripeto, dalla cover, dalla copertina mi aveva dato delle ottime vibes, delle ottime impressioni cominciamo adesso a parlare invece di fumetto giapponese un po' di recuperi sto continuando a recuperare Chainsaw Man sono arrivato ai numeri 4 e 5 della serie di, facciamo vedere così di Tatsuki Fujimoto, questo è il numero 4 dal titolo Pistola è potente e il numero 5, Minorenne sempre, ovviamente, dello stesso autore sto, appunto, un po' recuperando mano a mano un po' di numeri, appunto, di questa serie la cui prima stagione si è conclusa proprio qualche settimana fa anche nel nostro paese sto cercando di capire, insomma, un po' il motivo di questo successo all'epoca mi intrego molto, soprattutto più dal punto di vista grafico che dal punto di vista della storia invece sembra, insomma, che sia molto, molto interessante per ora mi piace, mi diverte c'è questo protagonista totalmente assurdo insomma, un po' disadattato che ha l'unico suo obiettivo è quello, insomma, di quagliare con una signorina di diventare adulto, fondamentalmente diventare grande insomma, scopando fondamentalmente con una donna, con una ragazza a cui poi intorno si aggira invece tutto il discorso di demoni di creature mostruose di questi personaggi, anche qua, dei design totalmente folli e fuori di testa mi piace un sacco, per esempio, questo specie di militare poliziotto con queste lame che gli escono proprio dalla fronte mi piaceva veramente molto come idea e appunto pian pianino lo sto un po' portando avanti un paio di numeri a botta perché, ripeto, mi sembra interessante capire appunto un po' questo vero e proprio fenomeno visto che soprattutto anche qua in Italia con la conclusione di questa prima stagione insomma, se ne è parlato veramente, veramente molto quindi volevo un po' capire appunto se ci fosse effettivamente un valore anche per quanto mi riguarda proseguiamo poi, sempre per quanti recuperi con il recupero del nuovo numero di Omunculus di Hideo Yamamoto l'autore di bellissimo Ichi The Killer uno di quei fumetti che adesso sta venendo ristampato da Panini ragazzi, se non ve l'ho recuperato adesso veramente, non so bellissimo, mi piace veramente, veramente tantissimo questa storia assurda angosciante, grottesca è veramente... mi trasmette un disagio sociale un disagio umano veramente come poche altre cose mi hanno passato come poche altre serie sia dal punto di vista della storia dell'approfondimento di questi personaggi sia ovviamente anche dal punto di vista dei disegni ricordo che insomma era una serie che venne pubblicata quando io ho mosso i miei primi passi nel mondo del fumetto giapponese vedevo le pubblicità appunto sui fumetti di Yu-Gi-Oh, di Naruto ma insieme a M.P.D. Psycho M.P.D. Psycho che ricordo anche quella fosse una cosa un po' strana un po' particolare però insomma questo mi sta prendendo decisamente molto molto di più ormai sono quasi verso la conclusione mi mancano ormai pochi pochi numeri e insomma sono molto contento che anche questo sia stato ripubblicato ristampato nel nostro paese in questa edizione praticamente anzi identica a quella vecchia perché appunto ho avuto modo di insomma approfondire conoscere soprattutto un altro fumetto di Dio Yamamoto che con Ichi The Killer a me ha totalmente folgorato dovrei recuperare anche non mi ricordo come si chiama l'altro fumetto di Dio Yamamoto che è uscito mi viene in mente Ino Yashiki ma Ino Yashiki è quello di Roya Oku non riesco a farmi in mente il ragazzino che si muove nell'elettricità questa roba che anche quello probabilmente dovrei dargli un'altra occasione perché il primo numero non mi sconfifferò molto magari insomma la sua prosecuzione il suo continuamento come si dice in italiano insomma potrebbe essermi più gradevole ecco anche quello probabilmente nel prossimo periodo gli darò un'altra occhiata 7 euro, 7 euro a volumetto fateci un pensierino fidatevi se vi piace un po' questo genere di storia questo genere un po' di cose anche un po' pesantine sotto un certo punto di vista ecco dateci un'occhiata dovrei vedere il film su Netflix se qualcuno di voi l'ha già visto mi faccia sapere com'è perché devo ancora vederlo sempre parlando di panini ma parlando invece di uscite regolari è uscito anche il sesto numero quindi tagliamo un po' la metà facciamo il giro di boa della nuova edizione di 20th century boys di Nokia Urasawa questo splendido, bellissimo, mi piace tantissimo veramente veramente bello, 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 bello anche questo ogni qual volta esce un nuovo numero mi ci fiondo perché mi piace mi piace veramente tantissimo mi piace un sacco insomma per ora è il fumetto di Urasawa che più sto preferendo in assoluto faccio sempre il parametro con Monster non che Monster non mi sia piaciuto ma ricordo che non provavo questa voglia di scoprire un po' come procedeva la storia che cosa ne era dei personaggi principali dei protagonisti come il passato di questi ragazzini come il loro progetto di infanzia di questo piano per salvare il mondo da questo enorme cataclismo da questo enorme disastro influenzi quello che è il loro presente con questo misterioso amico questo misterioso personaggio che fa parte del loro passato di cui nessuno di loro ha memoria di come questo si è riuscito a ridurre fondamentalmente l'umanità in ginocchio ponendo quasi una specie di dittatura quasi alla 1984 insomma mi piace veramente veramente un sacco e insomma sono contentissimo che venga ripubblicato anche questo in nuovo formato da panini perché è veramente molto 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 figo passando a Star Comics anche qua ristampe terzo numero per la ristampa di Kenshin e Samurai Vagabondo Rorouni Kenshin in questa Perfect Edition prezzo di 9 euro devo dire la verità che devo ancora leggere il secondo numero sono un pochino indietro devo recuperare in fretta più che altro per capire un po' se vale la pena seguire questa serie in come dire al passo con le sue uscite oppure magari prendermi un pochino di tempo recuperarla tranquillamente insomma nei prossimi nel prossimo futuro visto che insomma di cose belle di belle ristampe soprattutto ne stanno uscendo diverse in questo periodo è una di cui ne parliamo più tardi senza dubbio insomma almeno dal punto di vista grafico mi piace molto di Nobuiro Watsuki quel simpatico ometto che insomma abbiamo visto che da quando si è scoperto che insomma aveva un certo tipo di interesse verso i bambini insomma si temeva che soprattutto questo fumetto che era fuori catalogo da molto molto tempo non arrivasse più nemmeno in Italia però insomma sembra essere anche quel genere di storia che io personalmente sto un po' cercando nell'ultimo periodo che parli un po' di samurai di Giappone feudale anche se qua c'è un approfondimento sul periodo storico giapponese molto molto interessante fatto anche abbastanza bene però molto molto fantasioso diciamo con appunto questi personaggi molto molto particolari con questi design altrettanto particolari insomma un po' unire questa shonenata diciamo invece con il contesto storico anche qua del Giappone molto simile a quello di Sido qua forse il Giappone si è già aperto fondamentalmente agli occidentali alle loro usanze le loro tecnologie agli archibugi per dire insomma sembra un periodo diverso però appunto condito un po' con questa caratterizzazione ripeto molto molto shonen e poi parlando di ristampe è uscita finalmente anche la ristampa di questo fumetto di cui non pensavo di avere bisogno finché appunto Star Comics non annunciò mi pare la scorsa Lucca che lo avrebbe riportato con una nuova edizione e sto parlando di Century di Shou Fumimura con i disegni di Ryoichi Ikegami di Ryoichi Ikegami mi piacerebbe veramente molto anche leggere Crime Freeman che invece è stato ristampato ormai un po' di tempo fa da J-Pop che quello mi piacerebbe molto recuperarlo anche qua uno spaccato di un periodo del Giappone totalmente diverso perché stiamo parlando credo degli anni 90 tra gli anni 80 e gli anni 90 molto molto interessante vedere come questi due personaggi questi due protagonisti prendendo strade diverse uno scegliendo di diventare il capo fondamentalmente della malavita della Yakuza giapponese invece l'altro decida di in qualche modo diventare capo di un'altra associazione mafiosa e a delinquere piuttosto soprattutto radicata nel nostro paese ovvero il governo la politica fondamentalmente vedere come i loro destini i loro fondamentalmente le loro strade si incroceranno appunto in questi in questi due loro percorsi in questi due stili di vita diversi ma probabilmente non troppo mi piace tantissimo come è disegnato mi piace veramente veramente tanto l'edizione di Star Comics è tutto sommato buona sono dei volumetti un po' più ciccioni rispetto per esempio a questo di Kenshin è un pochino più smilzo rispetto anche agli altri di Kenshin ma più o meno stiamo parlando di un formato abbastanza simile a quello di 20th Century Boys infatti a livello di foliazione più o meno sono gli stessi ci sono degli inserti dorati nella copertina dei dettagli appunto in oro non so se ci sono pagine a colori non mi sembra di averne viste non credo proprio sovracopertina insomma un formato abbastanza standard abbastanza come dire senza infame e senza lode al prezzo di 15 euro dovrebbero essere mi pare 6 o 5 6 volumetti non mi ricordo più perché ricordo che la vecchia edizione erano 12 12 brossuratini stile Dragon Ball stile Jojo stile Dai La Grande Avventura mi pare che appunto si agili intorno ai 5-6 numeri quindi non è nemmeno una serie come dire molto lunga da portare avanti questo è anche uno dei motivi che mi ha fatto dire boh ok vado avanti la porto avanti perché poi sembra essere appunto anche molto molto interessante non sembra essere neanche la solita ripeto la solita scione nata che va un po' in questo periodo però insomma mi intrigava e volevo assolutamente provarlo quando ho visto che ero in uscita questa settimana ho detto proprio questo è il fumetto assolutamente che devo comprare questa settimana passando poi a Panini passando a Marvel passando all'unico spilato uscito è uscito il numero 90 di Amazing Spider-Man dove mi pare che stiamo parlando delle battute finali della serie di Spider-Man Beyond vedo che c'è ancora un numero numero 90 ma presumo credo se non mi ricordo male che sia l'ultimo appunto di questa serie di Spider-Man Beyond e poi da settembre partiamo finalmente con lo Spider-Man Amazing Spider-Man di Zeb Wells John Romita Jr ovviamente io lo sto già leggendo in americano e per ora vi dico che è veramente veramente fighissimo a me sta piacendo un botto quindi è un ottimo punto anche per iniziare a seguire le storie di Spider iniziare a seguire un po' i fumetti di De Bluomo Ragno quindi ragazzi fiondatevi se non sapete un po' dove lanciarvi dove iniziare appunto a seguirlo cominciate appunto a settembre con il rilancio appunto della testata per quanto riguarda invece i volumi da libreria visto che è uscita la serie televisiva su Amazon l'ho vista un qualcosina insomma mi è piaciuta si tratta di una serie che ho già cominciato a leggere un po' di tempo fa ho comprato i primi numeri ma non mi avevano devo dire fatto impazzire soprattutto dal punto di vista della storia dal punto di vista grafico invece mi sono piaciuti tantissimo ho detto sai cosa c'è gli do un'altra possibilità le vibes della serie televisiva mi hanno dato un come dire un'ottima un'ottima spinta appunto per poter dare un'altra occasione a questa serie pubblicata da Bao ed è ovviamente Paper Girls di Brian K. Vaughan con disegni di Cliff Chang questo è il terzo volume avevo preso i primi due e ho deciso di prendere anche il terzo recupererò adesso a breve dall'altra casa gli altri due volumi me li rileggerò e appunto provo a vedere se da questo terzo numero mi piglia un po' credo che la storia sia ormai ai più nota ovvero questo questo piccolo gruppo di ragazzini adolescenti che fanno proprio questo mestiere cioè quello di distribuire i giornali quotidiani per le stradine delle cittadine americane che dal 2 al 3 si trovano coinvolti in questa specie di casino spazio-temporale si ritrovano insomma ad avere a che fare anche con addirittura le loro versioni future le loro versioni anziane le loro versioni adulte insomma quindi anche un po' sicuramente interrogandosi su quello che è il loro futuro su quello che sono i loro desideri la loro la loro crescita il tutto poi appunto con questo ripeto contesto questa specie di lotta fra specie di fazioni di personaggi appunto che vogliono controllare ripeto il flusso del tempo devo dire che appunto la storia all'epoca non mi disse molto devo dire che fra tutte le cose che ho letto finora a primo impatto ripeto tornando all'impatto che mi fece leggere i primi numeri la trovo ancora oggi ma spero di appunto di smentirmi forse è una delle cose un pochino più deboli di Vogan ripeto sempre riguardo per quanto mi riguarda se il tollo mi sente mi strappa la faccia mi mangia la faccia letteralmente però appunto proprio perché vedere un po' i primi episodi della serie televisiva adesso in pausa perché sto guardando semmeno che mi sta facendo impazzire mi piace tantissimo ripeto provato a dire boh vediamo un po' vediamo un po' se vale la pena se i prossimi numeri i numeri successivi sono sono interessanti graficamente è eccezionale mi piace tantissimo questo questo stile di di Cliff Chang mi piace questo questo stile così io lo chiamo un po' pastelloso anche nei nei colori queste linee molto nette mi piace mi piace proprio tanto 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 per cui almeno da quel punto di vista credo di potermi salvare volevo darci un'altra possibilità almeno per quanto riguarda la storia magari ripeto non ci ho capito un cazzo io di quei primi numeri li ho letti in un momento in cui non era il caso però appunto sono ho detto boh vediamo un po' provo a riapprocciarla un pochino prezzo 18 euro è una serie che si compone di 6 numeri sono tornati tutti quanti disponibili adesso ovviamente con l'uscita della serie televisiva quindi raga provateci date un'occhiata magari ai primi numeri se vi piacciono un po' queste cose non voglio dire la Stranger Things ma come ambientazione un po' storie stile insomma come approccio stile molto anni 80 potrebbe essere una cosa di vostro interesse anche per quanto riguarda la serie televisiva e poi girando appunto in libreria ho trovato questo volume che mi era un po' perso per strada una roba che ho detto no questo lo devo assolutamente leggere mi sembra una roba fighissima una roba che devo assolutamente provare ed è un fumetto pubblicato da Sergio Bonelli che guarda caso proprio in questi giorni sul preview nuovo visto che uscirà a breve anche il secondo volume che è La Divina Congrega Canto Primo La Diritta Via che è una storia scritta da non mi ricordo il nome di Gualtieri Giulio Antonio Gualtieri insieme a Marco Nucci con i disegni di Giorgio Spallette e Matteo Spirito colore di Francesco Segala con la copertina di Matteo Spirito sempre una roba che mi ha folgorato nel suo approccio fondamentalmente partendo proprio come si dice dal titolo e dal sottotitolo insomma si intuisce il fatto che il protagonista sia il nostro sommo poeta il Vate Dante Alighieri che con questo presagio di sventura questo presagio di distruzione del nostro mondo portato proprio dallo stesso inferno che lui ha che lui ha visitato ecco decide di comporre letteralmente una squadra di Avengers mettiamola giù in quest'ottica di personaggi storici di personaggi letterali appunto per fermare ripeto letteralmente l'avanzata del demonio e dei suoi inferi una squadra che comprende spero di trovare la lista la lista qua esatto per combattere i danati dovrà riunire il più incredibile team dell'Italia rinascimentale Leonardo Da Vinci Lorenzo il Magnifico il Cimero Otello la Venere la Venere di Botticelli Cristoforo Colombo e la Maga Circe di cosa stiamo parlando è una roba che mi ha folgorato questo è uscito tra l'altro insieme a Nero di di Mamucari non mi ricordo il nome ma non voglio dire Matteo Mamucari se no faccio allusione al presentatore televisivo e ripeto mi sembrava una roba è una figata pazzesca devo assolutamente provarlo devo assolutamente leggerlo poi non mi ricordo per quale motivo l'ho un po' perso per strada e l'altro giorno girando così in libreria l'ho trovato ho detto ti appassù me lo porto a casa perché questo sembra sembra proprio una roba figa una roba divertentissima prezzo di 16 euro voglio vedere se ci sono anche esatto ci sono anche un po' di contenuti extra ci sono un po' di bozzetti un po' di dietro le quinte riguardanti appunto questo questo volume la sua come dire la sua concezione grafica e di sviluppo della storia della sceneggiatura insomma mi intrigava un sacco quando l'ho visto ho detto cazzo questo volevo assolutamente leggerlo e allora me lo sono preso perché sembra molto molto figo molto molto divertente molto molto interessante vi farò sapere assolutamente cosa ne penso una volta che l'avrò letto fatemi sapere un po' come al solito voi cosa avete letto e comprato nel corso di questa settimana i commenti come sempre sono qua sotto a vostra disposizione vi ricordo che se qualcuno di questi fumetti vi interessasse particolarmente lo trovate su Amazon c'è il link qua sotto in descrizione se passate per Pavia o siete da queste parti invece li trovate alla nerderia oppure se non avete fumettere vicino presso la fumettere online di hovistocose.it oppure ancora se vi andasse di seguirmi un po' di vedere un po' spulciare un po' quello che combino quello che leggo quello che faccio ci sono sotto i link per i miei social Facebook e Instagram come sempre Facebook dovrei dimenticarmi totalmente di averlo di fare un pochino più il giovane di usare soltanto Instagram però appunto purtroppo sono un po' vecchiotto e mi ricordo ancora che ho anche Facebook ma che nonostante il fatto che non lo usi più io vi saluto vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video ciao belì ciao